Si è svolta, presso la Chiesa del Cristo di Pordenone, la Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria. Alla Santa Messa, celebrata dal Vescovo di Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, hanno partecipato, oltre al Sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, le diverse autorità civili e militari. Inoltre erano presenti anche i rappresentanti dell'Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria, sezione di Pordenone. Il senso che ha questa giornata è quello di un momento di riflessione sul nostro lavoro, propriamente non è oggi la Festa del Corpo, ma la ricorrenza del Santo Patrono. Quindi andiamo alle radici della nostra motivazione. Non è quindi un momento autocelebrativo, ma un momento proprio di riflessione per noi, sulla quale ci guiderà ovviamente il Vescovo nell'Omelia. Anche quest'anno, come amministrazione, siamo presenti alla festa del Patrono della Polizia Penitenziaria. Noi giudichiamo che i rapporti tra l'amministrazione di Pordenone e questo corpo siano fondamentali proprio per quella coesione, per quell'armonia della città a cui noi miriamo. La collaborazione, il modo di lavorare con quelli che si occupano del carcere a Pordenone e la nostra amministrazione sono da sempre basati su un rapporto non solo di fiducia, ma di continuo scambio di aiuti reciproci, di attività che cerchiamo di fare insieme. Sappiamo quanto sia delicata la situazione del nostro carcere, speriamo che il nuovo venga fatto partire il più presto possibile, però dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Per questo è fondamentale proprio questa cooperazione tra persone e tra istituzioni ed è il motivo della nostra testimonianza oggi a questa festa.